Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione ci occuperemo di discutere la seguente equazione 5 che moltiplica x più 1 meno k che moltiplica 3 più k uguale 0 con la condizione x minore uguale di 1. In pratica si tratta di determinare quali sono i valori del parametro k per i quali la soluzione di questa equazione è minore uguale di 1. Cominciamo con il riscriverla una nuova slide, quindi la ricordo 5 che moltiplica x più 1 meno k che moltiplica 3 più k uguale 0. Si tratta di risolvere il seguente sistema misto composto cioè da un'equazione e da una disequazione che è x minore uguale di 1, cioè la nostra condizione iniziale imposta. Bene, dalla prima equazione cerchiamo di determinare la x sviluppando questi semplici calcoli, otteniamo 5x più 5 meno 3k meno k al quadrato uguale 0. Bene, è molto semplice isolare la x in questa equazione. Otteniamo x uguale k al quadrato più 3k meno 5 fratto 5. Tutto questo ovviamente, dato che x deve essere minore uguale di 1, deve essere appunto minore uguale di 1. Quindi riscriviamolo, k al quadrato più 3k meno 5 fratto 5 minore uguale di 1. Possiamo moltiplicare ovviamente per 5 ambo i membri di questa disequazione senza variare il segno per ottenere k2 più 3k meno 5 minore uguale di 5. Portando questo 5 al primo membro otteniamo infine k al quadrato più 3k meno 10 minore uguale di 0. Questa è una banalissima disequazione di secondo grado che andremo a sviluppare. Consideriamo innanzitutto l'equazione associata che è k al quadrato più 3k meno 10 uguale di 0. Per determinare k ovviamente utilizziamo la solida forma, quindi k è uguale a meno 3 più o meno radice quadrata di real al quadrato 9, meno 4c quindi più 40. Tutto questo fratto 2. k quindi è uguale a meno 3 più o meno 7 fratto 2. Quindi i valori di k sono meno 3 più 7 fa 4 fratto 2 2, meno 3 meno 7 da meno 10 fratto 2 meno 5. I valori di k sono 2 e meno 5. Visto che dobbiamo considerare adesso questa disequazione k2 più 3k meno 10 minore uguale di 0, dobbiamo considerare i valori interni. Quindi meno 5 scriviamo i valori meno 5 e 2. La soluzione di questa disequazione è data da questi valori qui. Visto che c'è anche l'uguale dobbiamo considerare anche i valori meno 5 e 2. Bene, questa in realtà è la soluzione finale della nostra equazione, quindi otteniamo k compreso tra meno 5 e 2. La nostra equazione iniziale quindi ha soluzioni x minore uguale di 1 quando k è compreso con l'uguale tra meno 5 e 2. In questo senso abbiamo discusso utilizzando il metodo diretto la nostra equazione. Ripeto, ciò che abbiamo fatto è stato determinare per quali valori di k, in questo caso k compreso tra meno 5 e 2, la soluzione x della nostra equazione è minore o uguale di 1. Per tutti gli altri valori di k che non siano compresi tra meno 5 e 2, la soluzione dell'equazione non è minore o uguale di 1. Se ci fossero dubbi o domande su questo argomento, ovviamente come sempre potrete far riferimento al nostro forum. Intanto vi ricordo che potrete iscrivervi al nostro canale youtube o mettere il mi piace sulla nostra pagina facebook nel caso in cui voleste restare aggiornati sulle nostre video lezioni. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questa lezione.